Ok, per questo esercizio mettetevi in posizione di affondo vicino a un muro. Vi servirà anche un foam roller o una palla. Che sia foam o che sia la palla, mettetela vicino al vostro ginocchio, tra il ginocchio e il muro. Il ginocchio andrà a spingere contro di esso e quindi contro il muro. Entrambe le mani saranno davanti alle vostre spalle. Il braccio interno spingerà contro il muro stesso. Il braccio esterno invece sarà quello che andrà a fare l'esercizio. Lo seguirò sempre con lo sguardo. Continuerò a ruotare fino a dove riesco. Se riesco a toccare il muro, bene. Se no, mi fermo prima. Quanto prima quando sento il ginocchio che si stacca dal roll o dalla palla.